Lutto nella piccola comunità di Salce a Belluno. Giovanni Battista Arrigoni, medico dontoiatra, figura di spicco del mondo del volontariato bellunese, è venuto a mancare nella notte per intossicazione da monossido di carbonio a causa di un incendio al quadro elettrico della propria abitazione. Con buona probabilità, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, a causare le fiamme sarebbe stato un fulmine abbattutosi nel corso del violento temporale di questa notte. A dare l'allarme stamane ai vigili del fuoco e al personale del SUEM un vicino, ma per l'anziano classe 1929 non vi sarebbe stato ormai più nulla da fare. Gravi ma non in pericolo di vita sarebbero le condizioni dell'anziana moglie che è stata ricoverata all'ospedale di Belluno. Sul posto anche la polizia. Arrigoni lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità bellunese. Fortemente impegnato nel sociale e nel servizio gratuito al prossimo è stato infatti fra i fondatori dell'associazione Cucchini e di Casa Tua 2, oltre che presidente del comitato d'intesa, l'odontoiatra bellunese è stato altresì una personalità che si è distinta anche in ambito pubblico, ricoprendo il ruolo di vice sindaco del comune capoluogo negli anni 90. Nel 2004 gli fu attribuito il premio San Martino, assegnato dalla città di Belluno. Grande medico, grande uomo, attivissimo nel volontariato, Belluno perde ancora una volta una figura di riferimento, ha commentato il presidente della provincia Roberto Padrin. Gli fa ecco il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin. Con Arrigoni ha affermato il sindaco, abbiamo collaborato per molti anni, è stato una figura straordinaria del volontariato bellunese, gli dobbiamo tutti molto.